I giochi sono fuori norma, per quanto mi riguarda non intendo mettere in pericolo l'incolumità dei bambini. Così l'architetto Aldo Misuraca, dirigente del settore lavori pubblici, spiega la ragione che lo ha indotto a disporre la chiusura del parco giochi della Perriera, quello situato all'interno dell'area del Museo del Carnevale. Farò personalmente una ricognizione per poter rendere disponibili i giochi che sono a norma, ha detto Misuraca, una decisione quella del funzionario che naturalmente ha valore rispetto al problema della necessaria prevenzione, oltre che della responsabilità. È di tutta evidenza però che la politica sia chiamata a fare una scelta ben precisa, ossia quella di dotare il territorio di parchi Robinson per bambini con una disponibilità di giochi nuovi e rispondenti, soprattutto alle norme di sicurezza. Una situazione che sicuramente deve indurre tutti a riflettere. Non sono poi passati molti anni d'altronde dall'incidente occorso di un bambino che, come si ricorderà, si ferì ad una mano allo scivolo della villa comunale dopo quel ferimento e giochi all'interno di quel giardino furono eliminati. Grazie.